Dark Souls, Crash Bandit, Cont, Ghost N' Goblin, Super Meat Boy, Geometry Wars Beh, se pensate che questi giochi sono difficili e impossibili da finire Non avete mai giocato a Volker The Viking Ebbene, Volker The Viking è un classico action platformer Sulla strega di un Ghost N' Goblins Ma della difficoltà molto ma molto più ardua Per poter finire questo gioco dovete essere dei malati mentali O comunque da avere delle skill paurose Perché ogni salto, ogni colpo deve essere millimetrico Per poter completare solo il primo quadro Leggende narrano che qualcuno sia arrivato a finire la prima boss fight Ovvero, opinione moleste del canale omonimo Comunque è un gioco bellissimo, ben fatto, ben strutturato Con delle belle meccaniche, semplici e ma immediate Come avete una lancia che potete usare per rampicarvi sui muri Per sconfiggere i nemici E la quale caricata può distruggere più nemici contemporaneamente Ci sono varie tipologie di nemici Ma fidatevi, è talmente difficile che se non amate i giochi Alla Ghost N' Goblins E avete giocato come gioco difficile solo Dark Souls Lo abbandonerete dopo 30 minuti Io c'ho 8 ore di gioco Ma non ho ancora fatto la prima boss fight Muoio nella prima boss fight Ed è tutto dire Comunque ben vengono i giochi di questo calibro Peccato che non ho il tempo da perdere da trentenne Chiunque adori le difficoltà estreme E gli action platformer È un acquisto obbligato da provare a tutti i costi Mentre per quelli più casualoni State nella larga Come Superman con la kriptonita Grazie mille Grazie mille